Ben ritrovati, buon inizio di weekend, prima di iniziare a sviluppare questo video vi voglio ringraziare per i tanti commenti che ho letto e per i feedback positivi che mi avete dato circa la chiacchierata con il giornalista del Fatto Quotiano.it Andrea Tundo, abbiamo parlato del momento Juve tra la sentenza momentanea meno 15 punti in classifica, la manovra stipendi, insomma per chi si fosse perso questo contenuto potrò tranquillamente qua nella mia playlist e sicuramente ne farò altri, anche magari con altri colleghi, anche se spero di poter ospitare nuovamente Andrea qua nella mia casa su YouTube perché credo sia giusto poi cercare di fare informazione all'insegna la qualità. Informazione tra virgolette potabile perché sono argomenti estremamente complicati, sono tecnicismi difficili da comprendere per tutti e quindi bisogna cercare di renderli fruibili questi concetti davvero per tutti coloro che vogliono comprendere concretamente cosa stia succedendo. Credo sia giusto fare questo tipo di informazione. Bando alle ciance, la doppia buona notizia che credo confermerà Max Allegri oggi in conferenza stampa alle 14, pre ovviamente Monza, si gioca sempre contro il Monza in questa stagione, è legata al fatto che Dujan Mlaovic e Paul Pogba da quanto mi risulta verranno convocati. Quindi vedremo finalmente Pogba in campo, quindi credo che domani ci siano grossissime chance che possa giocare un segmento di gara e quindi fare il suo esordio all'atto 2.0 al Pogback perché è incredibile come finora, giunti a fine gennaio, non siamo mai riusciti a vedere Pogba giocare in questa sua seconda versione a Torino, ma da quanto intuito domani per lui è previsto uno spezzone di gara. Idem con patate per Vlaovic che sta meglio, evidentemente il test di giovedì con la next gen ha fornito su questo doppio fronte segnali incoraggianti e da quanto intuito, parlando con qualche fonte, zero dubbi sul fatto che entrambi saranno convocati ed è altamente probabile quindi che possano trovare un segmento di gara. È importante questa doppia notizia perché consente di ampliare le rotazioni e che rotazioni? Perché se parliamo di Dujan Mlaovic e Paul Pogba, beh, musica per le orecchie di Max Allegri e dell'intero popolo bianconero. Sono giocatori che, chiaro, bisogna dar loro il tempo di riassestarsi, di ottenere una buona condizione e quant'altro, ma possono spostare decisamente gli equilibri. Per Pogba è una questione puramente di condizione atletica, dal momento che il post-intervento è andato come doveva andare. Per Vlaovic, essendo un'infiammazione natura pubalgica, credo che lo stop per quasi tutto il mese di gennaio gli sia servito per allontanare, per scacciare un po' questa infiammazione. Quindi auspichiamo che i segnali al rientro possano essere davvero confortanti per questa seconda parte di stagione tra campionato, Coppa Italia e, ovviamente, Europa League. Chi invece, penso sia un pochettino in ritardo di condizione, perché è rimasto fuori un po' di tempo e difficilmente domani andrà in panchina Leonardo Bonucci. Se dovessi scommettere una fish, la scommetterei sulla prossima partita con la convocazione per il capitano bianconero. Mentre Juan Quadrado, lo abbiamo già rivisto in campo, non è al 100%, secondo me è ben lontano. Dall'essere al 100% perché questi fastidi che ha avuto il ginocchio non sono da sottovalutare, però sicuramente domani sarà abilaurabile, quantomeno partendo dalla panchina. Ma ribadisca avere un panchina Quadrado, Vlaovic, Pogba con Chiesa che sta aumentando i giri, con Di Maria che finalmente sembra che si stia iniziando a prendere anche confidenza con l'ambiente bianconero. Tra l'altro ieri il Fideo ha dichiarato di voler continuare a giocare in nazionale. Questa è una notizia molto importante. Poi è chiaro che al tifoso giuventino interessa ciò che farà da qua al termine della stagione, anche perché in occasione della prossima annata, se tutto procede secondo tabella, credo che coerentemente Di Maria sia destinato a tornare in Sud America. Quindi le buone notizie riguardano Vlaovic e Pogba. Weston McKennie, cosa sta succedendo? Secondo me possiamo collegare questo discorso a Juan Quadrado. Io ve l'ho detto nei giorni scorsi, andiamo piano a dare per fatta questa trattativa con i Leeds, sicuramente ci andiamo a leggo in corso, sicuramente gli inglesi vogliono McKennie e sicuramente McKennie alle giuste condizioni andrebbe nella Premier League. Però ci deve incastrare tutto. Basti pensare che il Leeds ha manifestato un interesse allo stato attuale delle cose con la formula del prestito con diritto di riscatto, che magari eventualmente approfondendo, concordando le cifre, potrebbe diventare obbligo al verificarsi determinate condizioni. Quindi chi si aspettava che il Leeds si presentasse a Torino con magari 30 milioni è fuori strada, perché se avessero adottato questo modus operandi, credo che McKennie avrebbe già lasciato la mole da giorni. Su McKennie va fatto un altro ragionamento di natura tattica, perché con Juan Quadrado in queste condizioni precarie, vediamo quanto tempo ci rimetterà per tornare al 100%, auspicando che torni al 100%, McKennie abbiamo capito come rappresenti, allo stato attuale dello scacchiere, l'alternativa a Quadrado nella testa di Max Allegri. In quella posizione Allegri ha testato alcuni giocatori nel pre-season bis, quindi ha che bocciato sull'è, ha giocato con la Cremonese, ed è un giocatore sul quale la Juve conta molto, ma nel suo Barbieri, sicuramente ha delle potenzialità molto interessanti questo ragazzo, ma quantomeno al momento non ha ancora avuto grandissime chance in prima squadra. Alla fine della fiera la sta giocando McKennie. Inizialmente, secondo me, ha riscontrato grosse difficoltà in quel ruolo, perché non è il suo, McKennie non è un quinto, è adattato alla destra. Ultimamente, mi sembra che sia salendo di tono, anche a livello atletico, anche a livello mentale, abbia interpretato il ruolo con maggiore fosforo, maggiore intensità e maggiore lucidità in entrambe le fasi. Quindi, dare via McKennie è fattibile nella maniera più assoluta, non è un imprescindibile nel breve e lungo termine, ma deve valerne la pena. Cioè, se mi privo di McKennie perché subito posso portare a casa soldi importanti, soldi che magari non posso vedere, non vedrò a giugno perché magari il ragazzo si svaluta, allora devo cogliere subito l'occasione. Ma se devo andare, io incontro esigenze di un club della Premier League che può comprare praticamente il mondo, piuttosto McKennie me lo tengo. Quindi, io credo che il discorso tra Juventus e Leeds proseguirà anche in queste ore, sono curioso di ascoltare le parole di Max Allegri oggi in conferenza, ma al tempo stesso non sottovaluterei il pensiero legato a Quadrado e quindi sulla parte tattica. In molti mi hanno chiesto, ma perché non dare via McKennie e sostituirlo quindi con un quinto di ruolo? Al momento questa è una strategia che non è stata presa in considerazione dalla Juventus, quindi bisogna anche attenersi alla mera cronaca, la stessa che ci dice che se dovesse partire McKennie non c'è segnale di entrata. Poi, mercato, oggi siamo al 28 gennaio, ci sono cosa? Tre giorni? No? Sì, quindi. Magari può accadere di tutto, ma i segnali al momento sono questi. Quindi, oggi è un gioco interessante perché credo che Allegri potrà fare il punto della situazione a tutto tondo tra i giocatori che rientrano, tra la situazione McKennie e una partita da sottovalutare perché Monza ha già regalato un grosso dispiacere alla Juventus del campionato, proprio contro i bianconeri i Brianzoli hanno trovato il loro primo storico successo in Serie A e quindi la Juventus per dare rivincita in Coppa Italia. Ma bisogna fare attenzione perché Raffaele Paladino, ex bianconero, sa ampiamente il fatto suo. Il Monza gioca un bel calcio, una squadra con identità ben definita che non avrà tra le sue fila individualità molto interessanti, anche futuri libri, tra cui Filippo Ranocchia, giocatore in prestito al Monza proprio dalla Juve, con diritto di riscatto a favore del Monza e contro riscatto, ovviamente, a favore della vecchia signora. Ranocchia mi sa che fa la carriera. Tra l'altro contro la Juve in Coppa Italia ha fatto una bella partita. A mio modo di vedere, poi c'è anche Nicolo Rovella che penso proprio tornerà alla base perché sta disputando una stagione maiuscola in Lombardia. Se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like, iscrivete il mio canale e attivate le notifiche. Vi do appuntamento più tardi dall'Esterno Stadium per commentare assieme le parole di Max Allegri.